Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video allora oggi vi propongo questo trucco occhi su tonalità del verde e dell'oro un look bello intenso però molto molto carino direi quindi di cominciare subito e partire subito con il tutorial iniziamo ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco su tutta l'arcata sopraccigliare nella parte iniziale della palpebra mobile nella parte finale nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori applico un ombretto verde bosco nella parte centrale della palpebra mobile applico l'ombretto oro crea un punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio utilizzando questo ombretto verde chiaro realizzo la mia solita riga di eyeliner nera nella rima interna inferiore dell'occhio applico un ombretto in crema bianco che utilizzo come base per andarci a fissare al di sopra l'ombretto verde bosco termino poi il trucco applicando il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio ed il tutorial è terminato come avete visto nonostante è così intenso è comunque facile e veloce da realizzare io spero che vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like e noi ci vediamo nel prossimo video ciao beauty ciao a tutti 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 ciao a tutti